Chiuso dalla pandemia dopo che era stato adibito ad asilo ed ancora prima ex convento e orfanotrofio, una lunga storia alle spalle, quella dei locali di EPIC, European Palermo Youth Center, sito nel centro città a due passi dal Teatro Massimo. Due piani a oltre 5.000 metri quadri che su iniziativa dell'associazione De Factory e di una rete in forma ledienti permette agli associati di soffrire di servizi e attività. EPIC è un polmone di socialità, è una città dentro la città dedicata all'emancipazione economica e sociale dei ragazzi e delle ragazze. Quali sono le attività all'interno che è possibile fare, quali sono i servizi? All'interno di EPIC troviamo sportelli di utilità sociale, troviamo un bar, una caffetteria, una cucina, corsi di formazione, spazi di aggregazione, corsi, concerti e speriamo al più presto anche un ostello. Tra i servizi offerti è anche la casa dei riders, dei piccoli locali messi a disposizione per i ragazzi che consegnano cibo dove potranno rifocillarsi, riposarsi, riempire gratuitamente le proprie borracce d'acqua ed ancora riparare le proprie bici e gonfiare le ruote. È un'iniziativa che ci ha proposto la CGL di Palermo. È chiaramente un'occasione di aggregazione e di socializzazione per i rider ma anche per gli altri soci del circolo. Una categoria sfruttata e maltrattata da un punto di vista lavorativo a cui la possibilità di riunirsi, di ristorarsi, di caricare i telefoni, le batterie, di riparare le biciclette e in fin dei conti di fare gruppo e aggregazione con ragazzi e ragazze della loro età. Manca la parte finale di questo progetto ovvero il riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio d'Europa. Per diventare European Youth Center riconosciuti dal Consiglio d'Europa tra le varie cose è necessario avere a disposizione 30-35 posti letto. Questo vuol dire che fino a quando non realizzeremo l'ostello e per noi è un piano relativo al 2024 non potremo inoltrare la nostra candidatura. Ma realizzato questo saremo in prima linea per farlo e ricordo non c'è nessuno European Youth Center in Italia ancora. Tante sono le realtà sociali o simili che nascono in questa città che purtroppo si dimostra molto spesso una città difficile. Quali sono le vostre speranze? Oltre le speranze abbiamo fatto molto bene dei conti e delle previsioni. Prima di partire abbiamo fatto un piano di sostenibilità economica di questo posto. Abbiamo un'esperienza di 15 anni nella realizzazione di centri di aggregazione giovanili e il cardine è chiaramente la sostenibilità economica delle attività.